Sì, sono molto contento, sono contento della possibilità che mi ha dato il mister, sono contento di come i compagni mi hanno aiutato, con Ivan ma anche tutti gli altri mi stanno davvero dando una grande mano, quindi sono felice, mi dispiace molto per il risultato, ma sono sicuro che col mister analizzeremo al meglio questa partita e cercherà sicuramente di tirar fuori le cose per migliorare nelle partite successive. Io metterò sempre l'impegno perché penso che comunque sia una delle mie qualità migliori, quella di cercare di voler migliorare sempre, a Milanello con tutto lo staff, tutti i ragazzi che ci aiutano c'è grande possibilità di fare questo, quindi sono molto felice delle parole del mister e cercherò sicuramente di fare meglio ancora, ma penso che comunque i top player oltre al Bayern ce li abbiamo anche al Milan, quindi già allenarsi con i miei compagni è un onore, poi giocare anche con questi grandi giocatori lo è. La partita è difficile perché stiamo caricando comunque tanto anche ieri, anche se era rifinitura abbiamo fatto sessione di forza, sessione di fase difensiva, quindi stiamo facendo doppio tutti i giorni e nonostante le partite, quindi ovviamente il carico si fa sentire, i 90 minuti verso la fine molli un po', sei un po' meno reattivo del solito, ma è normale perché siamo in fase di preparazione. Loro erano un po' più freschi, probabilmente hanno una partita dal 2 agosto, se non sbaglio c'era una finale di Coppa di Germania, quindi era normale subire un po' dal punto di vista fisico. Comunque penso che abbiamo fatto una buona partita, le idee ci sono, col tempo dobbiamo migliorare sicuramente sotto certi aspetti, ma anche dal punto di vista fisico abbiamo retto bene, dopo domani, i prossimi giorni rivedremo col mister, ma dobbiamo rimanere comunque soddisfatti da questa partita, dobbiamo concretizzare un po' di più, ma vediamo il lato positivo, siamo solo all'inizio. No, mettere in atto i concetti che abbiamo provato in questi 10-15 giorni che abbiamo provato insieme in allenamento, ovviamente non abbiamo potuto neanche provare tutto quello che chiede il mister, chiederà il mister, perché ovviamente tra viaggi e preparazione, lato corso e partite sarà ancora lungo da mettere tutti i concetti al mister, però ci dirà lui cosa è andato bene e cosa dovremo migliorare nei prossimi giorni.